Allora, mi chiamo Beatrice Pinzan, ho 24 anni e vengo da Venezia. Sono sempre stata interessata allo studio delle lingue straniere, per questo dopo aver frequentato liceo linguistico di Venezia mi sono iscritta all'Università Ca' Foscari al corso di laurea triennale in lingue, arti, storia e civiltà, dove ho studiato principalmente la lingua e la letteratura inglese e spagnola. Ho poi deciso di proseguire, sempre nel campo delle lingue, a Ca' Foscari con il corso di laurea magistrale in lingue e letterature americane ed europee, specializzandomi nella lingua e la letteratura spagnola. Mi sono sempre dedicata, oltre allo studio, anche a delle esperienze lavorative, oltre all'attività di babysitter e di lezioni private di lingua e letteratura inglese e spagnola, ho collaborato anche presso la reception di un albergo qui a Venezia. Oltre a questo ho avuto esperienze nel campo dell'avvigliamento maschile come commessa, ho lavorato facendo uno stage presso l'archivio Luigi IX alla Giudecca e ho avuto l'occasione anche di partecipare all'organizzazione di convegni all'interno sempre del Dipartimento di Iberistica dell'Università di Ca' Foscari. L'ultima esperienza lavorativa che ho fatto è durato un anno all'interno della Biblioteca di Aria Umanistica dell'Università di Ca' Foscari come volontaria del Servizio Civile Nazionale, in modo tale che ho potuto acquisire anche conoscenze tecniche nell'ambito delle biblioteche. Non ho problemi nell'utilizzo del computer, sia per quanto riguarda Windows e Macintosh, amo una passione per il video editing e mi sono anche specializzata nei principali strumenti informatici per l'insegnamento delle lingue straniere. cerco un lavoro che mi possa lasciare spazio alle mie conoscenze linguistiche, per cui sono molto interessata al campo dell'istruzione, del turismo, delle traduzioni, ma lascio le porte aperte anche al mondo delle biblioteche e degli archivi, in generale agli enti culturali. Penso sia tutto, grazie.